26 dicembre 1194, nasce a Iesi Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero. Conosciuto con l'appellativo di Meraviglia del Mondo e Fanciullo di Puglia, Federico è dotato di una personalità poliedrica e il suo regno è caratterizzato da una brillante attività legislativa e di innovazione tecnologica e culturale. Muore a Fiorentino di Puglia nel 1250. Grazie a tutti.